pronto ma stavi dormendo no sono ascensore dimmi no niente puoi verificare se oggi mi è arrivato il pacco da amazon così nel caso passo stasera che sta che ha chiuso arrivo paola eri sotto la doccia? no stavo a fare acqua g no ma prego entra pure qual buon vento se si può ho accettato il tuo invito cos'è? la situazione ti eccita? il tacco sui piedi oh scusa ma di che invito stai parlando? vieni qua oggi le sfumature le facciamo diventare cinquantuno ahwey ma qua siamo niente angor sei la moglie del mio migliore amico io non potrei mai fare una cosa del generale Luca e poi come si suol dire tra moglie e marito non mettere il dito appunto figurta a mettere il pacca d'accusa scusami e allora perché mi hai mandato questo vocale? tra un'ora che aspetto a casa c'è un bel pacco per te più esplicito di così? no ma c'è un grosso malinteso il messaggio era a Paolo a Paolo il pacco? si ma non del pacco come intendi tu comunque mistero risolto tu adesso te ne torni a casa tua e amici più di prima Daniela apri apri veloce ma Luca mi avrà seguita ma stai chiuso in che senso perché? avrà scoperto qualcosa scoperto cosa che è tutto malinteso eh no io mi vado a nascondere ma non di là che c'è solo il bagno Luca capisco la tua foga però lascia che posso usare il tuo bagno? ah ho preso un caffè giù al bar deve aver fatto subito effetto oh pensavo chissà che cosa certo si infonda a destra no scusami che? ora che ci penso tu per forza in bagno la devi fare? eh no lo sai te la faccio nel salone eh perché no se per te non c'è problema io non avrei nulla incontrato cretino Luca qualsiasi cosa che vedi che non è colpa mia è stato malinteso io non volevo mandare a lei questo messaggio però chi ne sa perché? per fortuna mi sono nascosta nello stanzino stato stanzino tu boffi arrivi a andare stava per succedere un casino stava per succedere un casino stava per succedere un casino è Gismondo il fidanzato di quella di sopra tu vai qua dentro vai qua dentro Gismondo carissimo Ernesta mi ha lasciato prego si accomodi secondo me c'è un altro ma no Ernesta è una così brava ragazza a me questa storia mi puzza oh mossi mi hai salvato ragazzi gentissimo non è la storia che puzza la puzza viene dal bagno che si sente? si sente? sta là in trafici che si vuole suicidare si vuole Gismondo lui è Luca piacere giusto per capire che ci fai oggi in zona? sinceramente mi sto frequentando con una anche a me piace l'uva no 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 l'uva mi sto frequentando con una anche io uso la spuma la spuma no no la spuma mi sto frequentando con una la vita qui su Ernesta la manolesta con chi è che ti vedi tu? Paola porco schifoso che non sei altro e tu che ci fai qui? posso spiegare? posso spiegare? no è un malinteso non posso portare rispettare malinteso no te lo do io malinteso c'è un pacco da consegnare a chi lo lascio? no è un malinteso